La Bibbia è meravigliosa, abbiamo detto. L'ho messa proprio qui. La Bibbia è meravigliosa, stiamo dicendo in questi programmi. E, 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 questo è l'ultimo di questa serie. E, 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 i musulmani hanno i rano, i induisti hanno i vevi. Voi avete la Bibbia, che cosa c'è di diverso? E beh, c'è molto di diverso. Ogni lettera, ogni parola ha la sua struttura. Non si può dire, oio, oio, tu, tu, tu. Non si può dimostrare proprio niente. Niente. Tutti gli altri libri non hanno struttura. Questo dimostra che la Bibbia è della, della, no, 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 no. Ecco perché è importante che noi consideriamo queste cose. E che dimostriamo il, ma la Bibbia è meravigliosa proprio perché è di Dio. E quindi ruttura dei van, dei, 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 Volkswagen, tutti sopra lì con le loro borse, ma io ho detto ma che cosa in pratica? Ma no, io non volevo parlare, in quel momento però arriva Carlo Marx, il fondatore del marxismo, ma quasi duemila anni prima e la cosa ha cominciato a interessarmi, Dio, amore, sapienza, potenza, amore infinito, sapienza infinita, Dio esiste e ci parla con Questa Bibbia mi è stata portata da questo paese meraviglioso, e io oggi sono tornato in Finlandia, sono qui adesso, ma certo abito ancora in Italia, ma ho molte cose da fare qui, non si può dire, nessun brano della scrittura ne parla mai, Cosa stanno facendo quelli che si battezzano? Quelli che si battezzano, perché si battezzano se non c'è resurrezione? Eh non è, lo farò cadaveri quando chi ne vada, perché si battezzano? Ma il caa, quindi i raggi del sole, questo spostamento dell'anno, cosa vuol dire? Spostamento della bellissima Finlandia Spostamento della Finlandia è successo che Allora quando la scrittura dice Dio prese la metà di Carlo Marx e con la metà presa da un italiano formò la mia moglie, dice proprio una verità scientifica assoluta, tutti questi fatti quindi sono determinati Dallo spostamento nelle due dimensioni video dell'anno, un'altra delle cose importanti che tramontò il sole a mezzogiorno Quando studiavo a ruttura, allora niente, voglio dire, potremmo dire tutto quello che si potrebbe dire, io sono comunista, marxista, rivoluzionario, anticristiano, antireligioso Sono partiti e sono arrivati in Italia e hanno detto, siamo giovani studenti finlandesi, abbiamo diffosto Ma io ho detto, ma cosa in pratica? Un attimo, prendiamo un caffè Qui a TV7 c'è un altro programma che io conosco, che è Caffè Ramatu, fatto da Jarmo Sormunen e da Leif Numera per esempio Studiavamo insieme a ruttura Il termine originale usato per morti significa corpi morti e dice, quelli che si battezzano, se non c'è resurrezione Se non c'è resurrezione La traduzione corretta è Ricordate, mia moglie è meravigliosa Ramatu on ich mellinen Ricordate, mia moglie è meravigliosa